ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video degustabox è arrivata questa mattina pesantissima come al solito ma a parte il peso della degustabox e tutte le solite informazioni che ormai se mi seguite sapete comunque per chi fosse nuovo sul mio canale sappiate che giù in infobox trovate le informazioni quindi di che cosa si tratta che cos'è la degustabox ma soprattutto trovate il codice sconto comunque io sono curiosa secondo me anche voi e quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno comincio subito dal primo prodotto che c'è qui in superficie che è anche il più piccolo e il più leggero ossia questo pacchettino di caramelle sperlari si tratta di caramelle morbide fritz al gusto frutta e hanno le varie forme di dinosauro infatti si chiamano dino mix sicuramente queste sono le classiche caramelle alla frutta però con questa forma dinosauro sono un po' particolari poi vado avanti con un prodotto assolutamente classico mi viene da dire mitico le galatine un pacco di galatine però questa volta si tratta di una novità vedete che qui c'è novità sono galatine morbidose quindi caramelle morbide al latte con cuore di fragola mela e limone che hanno questa forma non so se è un orsetto che cosa sia non riesco a capire sembra più un castoro ma non lo so comunque c'è questo animaletto che non si vede sicuramente perché lo hanno messo bianco su bianco quindi non lo vedrete mai comunque hanno questa forma particolare e la novità oltre al fatto che sono morbide è che c'è questo cuore di frutta mi verrebbe quasi voglia di aprire il pacchetto per dare un'occhiata e vedere come sono queste caramelle non per assaggiarle perché in questo momento non ho assolutamente voglia di caramelle però per vedere proprio la forma magari alla fine del video vediamo ci penserò però adesso andiamo avanti con i prodotti qui c'è un pacco di pasta bellissimo tra l'altro perché tutto rosa della marca pastificio di martino formato stivalettini 100% grano italiano trafilata al bronzo io sinceramente questo formato di pasta non lo conoscevo è molto piccolo come formato non sono assolutamente un amante della pasta se mi seguite da tanto tempo lo sapete e mi piace ancora di meno la pasta piccola quindi sicuramente non è un genere di pasta magari che mangerò io però quello che mi ha colpito di questa pasta a parte il fatto che il pacchetto è bellissimo perché è tutto rosa e che c'è sopra il logo di barbie vi faccio vedere avvicino il pacchetto vedete qui c'è la barbie con il cappello da chef e il classico logo quando io ho visto il logo di barbie mi sono incuriosita ho pensato ma perché hanno messo il logo di barbie sul pacco di pasta poi ho capito perché guardando meglio all'interno della scatola ho trovato il volantino e qui è tutto spiegato praticamente per dirvela in breve hanno unito le forze è nata una collaborazione tra pastificio di martino che poi fa parte dell'antica pasta di gragnano e barbie per ridurre gli sprechi quindi praticamente in un modo un po' giocoso un po' originale hanno instaurato questa collaborazione per ridurre gli sprechi ma anche per nutrire tutte quelle popolazioni che ne hanno più bisogno quindi il ricavato degli acquisti che farete su questa tipologia di pasta andranno poi a questa associazione che si occuperà di nutrire anche queste popolazioni meno fortunate perché hanno scelto pasta di martino e spiegato sul volantino perché è una pasta di grano duro al 100 per cento italiano è trafilata al bronzo è essiccata lentamente a basse temperature e la percentuale minima di proteine del 14 per cento quindi comunque è un'ottima qualità di pasta inoltre sul volantino c'è uno sconto del 15 per cento per tutti i vostri acquisti su pasta di martino punto it vi lascio comunque tutto giù in info box però non è finita qui perché se andate sul sito pasta di martino punto it troverete il cofanetto di barbie ed è una cosa veramente bellissima per tutti gli amanti delle barbie se avete delle figlie o dei figli che amano le barbie io al vostro posto ci farei un pensierino perché è un bellissimo cofanetto c'è una scatola di latta tutta dedicata alle barbie poi all'interno ci sono due pacchi di spaghetti c'è un pacco di farfalle uno di pennette rigate uno di schivalettini che sarebbe questo formato qui poi c'è un pacco di orzo c'è una bambola barbie vestita da chef con il cappello da chef e poi c'è un ricettario che è realizzato con il dipartimento di medicina sperimentale dell'università degli studi della campagna luigi van vitelli dovevo leggere tutta questa cosa perché non me la sarei mai ricordata a memoria comunque veramente un'iniziativa molto carina e davvero se amate le barbie e avete magari dei figli o delle figlie che amano le barbie secondo me potrebbe essere veramente un regalo particolare un regalo originale da fare io se avessi una figlia sicuramente avrei acquistato questo cofanetto glielo avrei regalato io non ho figli quindi eviterò di comprare anche questo cofanetto anche se devo dire che mi piacerebbe perché io amavo le barbie le amavo tantissimo e quindi un po come ricordo diciamo dei vecchi tempi mi piacerebbe acquistare questo cofanetto però mi sto trattenendo un po perché non voglio spendere troppi soldi un po perché non ho più spazio in casa quindi se mi arriva un'altra scatola una bambola di barbie che poi comunque non saprei dove mettere è un po un problema però insomma io ve lo volevo segnalare perché è una bella iniziativa ma andiamo avanti perché altrimenti questo video va troppo fuori strada rispetto alla degustabox vi faccio vedere un prodotto che mi attira tantissimo ce ne sono due pacchi e si tratta di cracker rettangolari cotti al forno con pomodoro e origano questo è proprio il genere di cose che io adoro mi piacciono tantissimo queste cose questo genere di alimenti come cracker schiacciatine taralli grissini tutte queste cose qui io le adoro e quelle aromatizzate mi piacciono ancora di più ogni tanto mi compro quelli al rosmarino quelli magari che hanno dei sapori un po diversi un po particolari e questi qui al pomodoro e origano sicuramente mi piaceranno tantissimo perché mi fanno un po venire in mente il gusto della pizza che comunque è uno dei miei piatti preferiti e sono contenta che me ne abbiano mandato due confezioni poi andiamo avanti perché qui c'è una bellissima scatolina tutta sul verde così con questo formato un po geometrico e si tratta di cristalli di sale marino una bellissima scatola poi il sale marino comunque in cucina è sempre utile quindi un ottimo prodotto poi andiamo avanti perché qui c'è una bellissima confezione con un bellissimo tappo rosso di salsa di soia a fermentazione naturale e sono 150 ml di prodotto quindi considerando che la salsa di soia comunque non so se l'avete mai utilizzata però è sufficiente utilizzarne poche gocce non dovete usarne tanta sicuramente questa durerà tantissimo tempo e quindi è una buona quantità di prodotto poi andiamo avanti perché qui c'è una bottiglietta di estate zero zucchero al gusto pesca è buonissimo secondo me il tè alla pesca l'estate a me piaceva poco perché era troppo zuccherato però questo qui senza zucchero sicuramente mi piacerà perché appunto hanno tolto quell'ingrediente che a me non piaceva più di tanto poi abbiamo due tavolette di cioccolato ritter sport questa è al caramello salato ed è un nuovo gusto questa invece è frutto della passione e mango ne ho già una tavoletta in frigo che non ho mai aperto perché non sono tanto amante del mango volevo regalarla a mio papà poi tra una cosa e l'altra mi è rimasta in frigo comunque adesso magari le porterò tutte e due sono due tavolette uguali questa al caramello salato invece mi incuriosisce la voglio assaggiare poi vado avanti perché qui c'è un prodotto che di questi tempi sta diventando prezioso ossia un pacco di farina questa è farina manitoba di tipo zero di grano tenero origine unione europea questa è della marca il molino e come vi dicevo è un prodotto che sta diventando prezioso perché purtroppo con la guerra tra russia e ucraina questi prodotti rischiano di scarseggiare quindi secondo me stanno diventando davvero preziosi inoltre questa è di origine unione europea quindi ancora meglio poi vado avanti qui c'è un prodotto che io non utilizzo però come al solito lo regalerò ossia la birra birrificio angelo coretti 00 a questa è analcolica però non la utilizzo lo stesso perché comunque non mi piace quindi la regalo in ogni caso però comunque è un prodotto che è sempre di ottima qualità immagino per gli amanti comunque della birra e poi l'ultimo prodotto che invece mi piace tantissimo di marca casa della piada è la piadina questa è credo quella piadina un po più morbida che si può ripiegare su se stessa eccola qua è formato medio è sottilissima morbida avvolgente vediamo se c'è scritto qualcos'altro salva freschezza la confezione salva freschezza e comunque insomma un prodotto che a me piace sempre questi erano tutti i prodotti della degusta box però se vi ricordate abbiamo una cosa in sospeso perché dovevo aprire il pacco di galatine perché volevo farvi vedere come sono fatte intanto vediamo se sono chiuse nel senso singolarmente confezionate oppure no anche se secondo me non lo sono perché al tatto mi sembra che siano aperte se riesco ad aprire la confezione vi faccio vedere come sono siccome non riuscivo ad aprirla ho preso le forbici comunque hanno un profumo veramente ottimo non sono confezionate singolarmente perché sono comunque così e adesso io ve ne faccio vedere una sono molto carine veramente molto carine perché hanno praticamente il cuore colorato vedete che hanno il cuore colorato e poi c'è questo animaletto che sinceramente non capisco che tipo di animaletto sia se voi lo capite vi prego ditemelo perché non riesco a capirlo comunque c'è la caramella che è tutta di latte e poi questo cuore alla frutta sono veramente carine molto particolari fatemi sapere nei commenti quale prodotto vi piace di più quale vi incuriosisce di più magari tra quelli un po più nuovi io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme e vi mando un bacio enorme